Gli imprenditori e gli esercenti delle aree industriali vittime dell'estorsione e dall'usura che hanno collaborato con l'autorità giudiziaria potranno godere di una serie di agevolazioni economiche da parte dell'IRSAP. Lo stabilisce il regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione dell'IRSAP a favore delle aziende che presentano all'Istituto un'istanza di assegnazione di aree e di immobili e che hanno subito un danno ai beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali o mancato guadagno inerente all'attività e che si siano rifiutati di aderire a richieste estorsive o di usura. Le agevolazioni prevedono una riduzione del contributo delle spese di gestione al 60% per i 5 anni successivi al passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna. Il piano di rientro, concordato con la rateizzazione sino a un massimo di 5 anni per eventuali spese di gestione e pregresse, l'esenzione per 5 anni dal pagamento di qualsiasi onere per l'istruttoria delle istanze presentate all'IRSAP per l'assegnazione di aree o immobili e rilascio di qualsiasi parere o nulla osta. Questo regolamento nasce dalla volontà dell'IRSAP di premiare chi opera e si adopera per lo sviluppo produttivo in Sicilia, opponendosi a fenomeni di estorsione e di usura. Si tratta di un giusto riconoscimento premiale per chi combatte in prima linea il racket delle istorsioni a favore di una imprenditoria libera dalle costrizioni mafiose. E quanto ha detto il commissario straordinario dell'IRSAP Sicilia, onorevole Maria Grazia Brandara, che è poi la linea guida del mio incarico, che ha come priorità assoluta la legalità, con un occhio sempre attento a prevenire fenomeni di corruzione, su cui non mi stancherò mai di porre l'accento per consentire processi trasparenti ed efficienti e agevolare così le imprese e lo sviluppo delle attività produttive. L'ammissione all'agevolazione avverrà dietro presentazione di un'apposita domanda da parte del soggetto interessato, edrendo sei mesi dal passaggio ingiudicato della sentenza di condanna. L'area affari giudici e legali dell'IRSAP aprirà un istruttore e valuterà le condizioni di ammissibilità e requisiti di legittimazione, oltre che presupposti rilevanti per riconoscimento della misura premiale. Terminata l'istruttore e il responsabile dell'area affari giudici e legali provvederà a formalizzare al Consiglio di amministrazione dell'IRSAP la proposta di un provvedimento di concessione, oppure il diniego delle agevolazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda o dall'ultima integrazione. Grazie a tutti.